Una volta Oliviero Toscani era famoso perché faceva delle foto scandalo, nel senso che fotografava i malati di AIDS per far pubblicità alle magliette Benetton, fotografava i condannati a morte sulla sedia elettrica negli Stati Uniti per vendere le magliette Benetton, metteva una donna anoressica per vendere delle alte magliette che non erano Benetton, una ragazza, faceva delle foto scioccanti. Oggi non è più capace di fare foto scioccanti e quindi c'è solo cose sciocche, anziché scioccanti. E le cose sciocche sono queste qui, cioè dare dei coglioni agli italiani è una cosa sciocca. Gli italiani votano in base alla loro coscienza e al loro interesse, non sono né fascisti né nazisti, né comunisti. Semplicemente scelgono quello che ritengono di dover scegliere, cioè l'offerta politica che c'è sul mercato. L'offerta politica sul mercato oggi prevede qualcuno che magari è favorevole ad aprire i porti e qualcuno che è favorevole a chiuderli. E quindi gli italiani scelgono quelli che vogliono chiuderli perché ritengono che uno dei problemi di questo paese sia anche una immigrazione disordinata, il che non vuol dire essere contrario all'immigrazione.